Anche i lombardi che rientrano nelle categorie a rischio potranno farsi iniettare il vaccino anti-influenzale in farmacia. Con ogni probabilità, infatti, le farmacie che fino all'anno scorso potevano effettuare la puntura con il siero contro l'influenza solo a pagamento, dal prossimo autunno, invece, potranno garantire le somministrazioni anche alle fasce di lombardi per le quali il vaccino è gratuito. Queste fasce di popolazione, infatti, prima dal farmacista, potevano solo acquistare il siero per poi andarselo a fare iniettare dal proprio medico di base. La novità fa parte di uno dei tanti servizi che, con l'urgenza della pandemia, sono diventati indispensabili per quel tipo di farmacia e dei servizi che si vuole far crescere in Lombardia e la possibilità di far vaccinare anche i soggetti a rischio dei farmacisti sarà oggetto di un nuovo protocollo d'intesa che dovrà essere firmato dal Ministero della Salute, dalla Regione, insieme a Federfarma e Assofarma. Stiamo lavorando in conferenza Stato-Regioni, ha commentato la Vicepresidente Assessora al Welfare Letizia Moratti, per consentire alle farmacie di somministrare il vaccino anti-influenzale anche alle categorie a rischio, per le quali la vaccinazione è offerta gratuitamente. Consapevoli dell'efficacia di prevenzione della vaccinazione, intendiamo ampliare le sedi dove i cittadini potranno ricevere il vaccino per raggiungere e proteggere sempre più persone. E così come l'anno scorso, conferma Moratti, il vaccino anti-influenzale verrà offerto insieme con l'anti-covid. Secondo i dati, l'anno scorso sono stati 1.800.000 i lombardi che hanno deciso di vaccinarsi contro l'influenza, la maggior parte proprio appartenenti alle categorie a rischio, che ne hanno diritto gratis. Gli over 60 sono stati 1,3 milioni, circa il 73% dei vaccinati, i bambini da 6 mesi a 6 anni, oltre 140.000. Ci sono poi state le persone a rischio per altre patologie, oltre 125.000 vaccinati, e gli operatori sanitari, oltre 75.000. Infine 9.000 donne in gravidanza, a cui l'anti-influenzale è offerto gratuitamente fino a 6 settimane dopo il parto. Nei due anni della pandemia, inoltre, l'adesione alle vaccinazioni contro l'influenza è notevolmente aumentata rispetto agli anni passati, circa il 68% in più, e per quest'anno Regione Lombardia fa sapere che i vaccini acquistati tramite gara regionale in collaborazione con Aria SPA sono arrivati a 2,7 milioni.